In questo caso la biografia di questo personaggio è talmente lucida, ben scritta, che è stata tra l'altro la cosa che mi ha convinto ad accettare, perché dalla prima lettura, dal primo racconto che ci siamo fatti io e Renato, che condividivamo un ufficio insieme, quando mi ha raccontato questo personaggio l'ho subito visto. Ho visto subito questo introverso, ho visto come camminava, come si vestiva. E quindi io quello che ho un po' cercato di fare quando abbiamo girato a Milano, nei limiti del... adesso non voglio fare l'eroe, però un po' la vita di questo personaggio l'ho attraversata. Non sono stato in albergo, mi sono preso una casa, ho cercato di stare da solo il più possibile per quello che le riprese consentono. Alla fine delle riprese non ti porti certo dietro il dolore, però io confesso che mi sono portato dietro una grande fatica, perché sono state riprese molto molto lunghe. Ogni giorno c'erano scene difficili, complicate, proprio fisicamente complesse. E un po' di introversione, un po' di riservatezza, di travaglia, me la porto dietro ancora adesso perché in questo ci somigliamo molto. Io sono uno notoriamente molto schivo al di fuori del discorso esclusivamente professionale, insomma sono uno super riservato ed è una cosa che abbiamo in comune ed è una corda che a me mi affascina molto di questo personaggio. Grazie.